Sono finiti in ospedale dopo aver ingerito per un errore del detersivo idraulico. I protagonisti delle vicende sono due bambini di 4 e 2 anni residenti allo Zen 2, in via costante Girardengo, a Palermo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dai sanitari del 118 e dalla testimonianza dei genitori, dopo aver ingerito una piccola quantità di mister muscolo, i due fratellini hanno accusato un malore. Fortunatamente una successiva gastroscopia all'esofago è risultata negativa per entrambi, quindi non vi sono lesioni. Tuttavia bisognerà aspettare le prossime ore per scongiurare eventuali altre conseguenze legate all'effetto caustico del prodotto. Adesso la diagnosi rimane riservata per entrambi, anche se non sono più in pericolo di vita. Il detersivo in polvere ingerito infatti ha causato forti ustioni alla bocca e alla gola. Il più serio è il piccolo che dopo la gastroscopia è stato trasferito nel reparto di rianimazione al di Cristina. Il fratello maggiore rimane per ora in osservazione al pronto soccorso pediatrico del cervello. Uno dei bambini è stato anche operato per rimediare gli inevitabili danni che la sostanza ha provocato negli organi del piccolo. Indagini della polizia per ricostruire l'accaduto. La madre li avrebbe trovati per terra in preda a forti dolori e con difficoltà respiratorie e ha chiamato il 118.